La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di Alessandro Garlaschi, il tramviere di 39 anni accusato di aver ucciso lo scorso febbraio la 19enne Jessica Valentina Faoro nel suo appartamento di via Brioschi a Milano. L'udienza preliminare a carico dell'uomo a cui sono stati contestati l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi e il vilipendio di cadavere prenderà il via il prossimo 7 novembre davanti al GUP. Il suo difensore, l'avvocato Francesca Santini, ha preannunciato la richiesta di rito abbreviato che consente lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna condizionato a una perizia psichiatrica. Stando alle indagini coordinate dal PM Cristiana Roveda, la giovane è stata uccisa con 85 coltellate e Garlaschi le avrebbe anche bruciato una parte del tronco in modo da cauterizzare una ferita ed evitare la fuoriuscita di un organo. L'imputato ha affermato davanti inquirenti e investigatori di ricordare solo di aver colpito Jessica con tre coltellate leggere dopo una lite in cui la ragazza che gli aveva detto tu mi stai troppo addosso lo avrebbe ferito con lievi coltellate alle mani. Insomma, ha detto di aver reagito ma di non rammentare quel che è accaduto. Il tranviere che ha negato qualsiasi approccio di tipo sessuale, cosa peraltro confermata dagli accertamenti, ha ammesso però che la giovane gli piaceva molto. Infatti il giorno dell'omicidio, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, le aveva lasciato un bigliettino sul comodino con scritto Ciao bimba, sai che ti voglio bene, ci vediamo stasera per vedere il film, che era poi un cartone animato. Il suo legale in attesa delle conclusioni del consulente nominato, uno psichiatra, affinché accerti il suo stato di salute mentale e la sua capacità di intendere e di volere.